Barzelletta, Cristiano fa il preparatore atletico mentre istruiva il suo gruppo arriva un signore e si posiziona al centro Cristiano dice a tutto il gruppo alzate il braccio destro e il signore domanda qual è il destro? Cristiano dice signore è questo e il signore risponde allora è giovedì poi Cristiano dice al gruppo alzate il braccio sinistro e il signore risponde ancora qual è il sinistro? e Cristiano dice al signore è questo signore e il signore risponde allora è martedì Cristiano dice al signore signore ma lei che è al centro e non sa qual è la destra e la sinistra come ti chiami? e lui dice mi chiamo mercoledì no